Dalla giornata di ieri sono accadute diverse situazioni di una certa rilevanza. La prima, innanzitutto, il Governo centrale ha finalmente approvato il decreto rinascita Italia che contiene evidentemente norme che impattano anche sulle realtà che sono oggetto del nostro progetto di legge. E quindi la comprensione di questo decreto è un atto preliminare necessario. Per quanto riguarda invece la legge regionale, oggi scadevano i termini per gli emendamenti. Sono stati presentati numerosi emendamenti da parte delle opposizioni, ma anche degli emendamenti importanti da parte della maggioranza che sono anche un po' la sintesi del lavoro di questi giorni dove siamo riusciti a reperire ulteriori risorse che ampliano quindi la portata e la capacità di finanziamento della legge stessa. Preso atto di queste due situazioni di novità, con i commissari abbiamo rimodulato il calendario dei lavori fermo restando che rimane inalterato l'obiettivo di licenziare la legge prima del Consiglio regionale che si terrà la prossima settimana. E la cui data definitiva verrà decisa lunedì dalla conferenza dei capigruppo. Quindi riprenderemo i lavori della Commissione lunedì pomeriggio con l'audizione degli assessori coinvolti quindi dalla legge che attraverso il contributo loro delle loro strutture illustreranno soprattutto le maggiori capacità di spesa della legge e quindi la maggiore incisività di intervento che la legge stessa oggi può avere alla luce appunto di quell'attività di ricerca che la maggioranza ha fatto nelle pieghe del bilancio regionale. Dopodiché la giornata di martedì che coinciderà anche con il nuovo termine per quanto riguarda la presentazione dei subemendamenti sarà quella un po' decisiva per licenziare la legge in Commissione. La certezza che possiamo dare agli abruzzesi che la prossima settimana la legge approda in aula che comunque ci siamo portati avanti con il lavoro ma che è necessario questo supplemento di conoscenze e di indagini alla luce delle maggiori risorse, del decreto del governo, degli emendamenti presentati e quindi tutto ciò rende necessario un contributo attraverso l'audizione da parte delle strutture e degli assessori della Giunta e poi naturalmente tutte le valutazioni politiche dei commissari e delle forze politiche presenti in Commissione saranno un po' la sintesi finale circa il contenuto della legge.